Ciao Favij o Lorenzo, come preferisci essere chiamato? Lorenzo, assolutamente, potrei decidere. Allora continuiamo con Lorenzo. Allora la prima domanda è relativa ovviamente all'album di figurine che è appena uscito. Ti volevo chiedere, qual è stata la tua prima sensazione appena ti hanno detto che avresti fatto un album di figurine? In realtà non riesco neanche a descriverla perché è stata una cosa del tipo non sta accadendo, mi sveglierò domani mattina che è tutto un sogno e ancora credo sia così. Penso che riuscirò a realizzarlo veramente soltanto in futuro, adesso cerco così di non pensarci perché mi fa veramente troppo strano. Ok, tu hai detto che sei un appassionato comunque di figurine fin da piccolo, c'era un album a cui sei particolarmente affezionato e c'è stata una figurina che ti ha fatto particolarmente impazzire, che non riuscivi a trovare? Diciamo che la collezione di figurine, di carte più che altro che ho fatto, che sulla quale mi sono concentrato di più da piccolo è stata quella di Yu-Gi-Oh, la carta più bella in assoluto era il drago bianco, chi blu che molti si ricorderanno ed era la mia preferita in assoluto. Quindi essere io adesso, il mio personaggio, vederlo su carta stampata, su figurine, su album è qualcosa di incredibile ma comunque non riesco proprio a vederlo come io vedevo le figurine vecchie, non riesco proprio a immaginarmi di essere diventato una figurina, quasi per niente. Ok, un'altra domanda chiaramente relativa ai videogiochi, allora io sono cresciuto in una generazione, la generazione di Super Mario, di Crash Bandicoot, di Donkey Kong, quali sono i tuoi videogiochi diciamo d'annata preferiti, quelli di un tempo? Crash Bandicoot te lo rubo, proprio te lo prendo, poi il mio preferito in assoluto è Metal Gear Solid, la mia saga proprio preferita, in realtà è strano perché ci giocavo a 4 anni e quei concetti di guerra è un po' strano, però è la mia saga preferita in assoluto. Poi andavo, passavo da quello a Dragon Ball, a Bugs Bunny, quindi classici sono, i nostri grandi classici adolescenti. Allora un'altra domanda, le nostre lettrici sono appunto prevalentemente una fanbase femminile, ci sono anche lettori chiaramente maschili, ti volevo chiedere, hai qualche videogioco da consigliare particolarmente alle ragazze, c'è qualche videogioco che potrebbe particolarmente piacere alle nostre lettrici? Ma in realtà a chi piace videogiocare piacciono tutti i videogiochi, io ad esempio la mia ragazza che va pazza ad esempio per Prince of Persia o Assassin's Creed per esempio una ragazza, quindi non ci sono proprio dei videogiochi a parte per le bambine piccole come possono essere ad esempio Barbie, ma le ragazze proprio penso che non ci sia differenza tra i videogiochi al maschile al femminile. Ok, un'altra domanda, tu hai detto che non ti interessa molto parlare di politica, di questi argomenti un po' spinosi, però ci sono degli argomenti legati al mondo degli adolescenti, dei teenager che ti stanno particolarmente a cuore, ci sono dei messaggi che vorresti mandare? Il messaggio forse che ho cercato di mandare, perché so che copre comunque la mia fascia di età, è quello di essere sempre forti per il fatto che comunque a scuola esiste il bullismo, anche se di minuto esiste, comunque molti mi scrivono anche sulla pagina di Facebook che hanno determinati problemi, quando ho tempo c'è comunque di aiutarli e l'unica tematica che affronta è quella di non lasciarsi mai abbattere né dei problemi scolastici né dei problemi familiari, perché comunque c'è sempre del buono in ogni giorno. Ok. Anche per il fatto che loro comunque mi dicono, aggiungo questa cosa. Sì, no, no, fai benissimo. Guardare i miei video, molti mi dicono guardando i tuoi video io mi distraggo e tutti i problemi della giornata passano via. Io cerco a mio modo di aiutarli anche in questo e si spera di riuscire a farlo nel modo migliore. Ok, è molto bello quello che stai dicendo, l'apprezzo molto. Un'ultima domanda, che consiglio daresti a chi vuole aprire un canale su YouTube e anche per avere successo, diciamo, quali sono i consigli più utili per avere successo su YouTube in questo momento in cui ci sono comunque tanti YouTuber in circolo. Sì, in questo momento è veramente difficile anche perché ci sono veramente tante persone che hanno talento e iniziano a fare video su YouTube. Io, a mio avviso, cioè dal mio punto di vista posso dire, io ho aperto un canale senza aspettative. L'ho fatto perché mi stavo divertendo, perché mi divertivo a fare ciò che ho sempre fatto, ciò che continuo a fare. Quindi in primis bisogna divertirsi, non bisogna fare le cose per raggiungere un obiettivo. Poi pian piano quando si prende un format, quando si inizia ad accumulare un po' di pubblico ci si può porre degli obiettivi, ma iniziare da zero cercando di raggiungere un obiettivo non sapendo come si fanno determinate cose è una cosa da evitare. Quindi in primis bisogna divertirsi. Prima regola in assoluto. Bene ragazzi, io sono FabiJ e oggi sono su Ginger Generation. Volevo fare un saluto, non ho le mie cuffie ma fate finta che io le abbia. Ciao a tutti, bella!